quella ce l'abbiamo eccole le ragazze love le ragazze love e tu chi sei? sono anna come? anna! anna da dove vieni anna? da lecco! anna da lecco? le spose la la sposa love tutte love che è la coreografa del gruppo qua? eleonora ha creato tutto questo! noi stamattina eravamo ad ibiza veramente cioè direttamente da ibiza allora me la fate un balletto stile ibiza in piedi ragazze direttamente da ibiza ce l'abbiamo qua solo per noi stasera le ragazze love da lecco va ragazze vai col balletto è una veramente veramente coreografie incredibili quindi eravate a ibiza e a un certo punto ti hanno preso hanno detto adesso la festa comincia per davvero siamo in provincia di dove siamo qua a brescia verona a brescia avete preso l'aereo hai preso l'aereo e siamo qua e ti dico che all'ushuaia di ibiza c'era meno casino che qua e cavolo qua se nella patria che si sa il convento di nonato al convento chi l'avremmo mai detto che non convento ci sarebbe stato tutto sto casino è perché li abbiamo tenuti tutti chiusi adesso stanno sfogando certo giusto con chi ti sposi ce lo dici con flavio 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 sì perché lo fai perché sono innamorata e lui perché lo fa perché ancora più innamorata proprio una certezza assoluta proprio matematico te l'ha chiesto lui di sposarti certo come ha fatto eravamo a cena mi ha fatto un bel discorso e mi ha dato l'anello a proprio semplice romantico hai detto sì subito subito certo senza perdere un attimo detto un'offerta promozionale da non perdere esatto senza pensarci troppo ma che bello 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 allora come si chiama detto flavio nell'intimità lo chiami amore e la prima volta dove avete fatto all'amore a milano casa sua in casa ok no certo sì però non è che sei andata a casa di qualcun altro allora vai facciamo un brindici generale vai un brindici vai per la nostra sposa da ibiza ok 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 ok